Ciao a tutti ragazzi, io sono WillemGames e oggi siamo su Ice Cream T-Con. Noi stati la X devono fare pure una serie su questo Ice Cream T-Con. Allora il nostro nome è WillemGames, no WillemGames, Games, Games. Scriviamoci Willem. Ok ora dobbiamo prendere su questi gelati e metterli qui. Qui io ci giocavo. Noi i gelati li devo metterli qui. Altri quattro. E uno ne manca. Allora. Allora ragazzi, vediamo cosa scrive questo qua. Ragazzi, ma mi sembra veramente Scream. Poi a parte che le immagini dei Scream hanno cambiato ragazzi. Guardate. Ragazzi, guardate questa. Non era così. Ah, questo ragazzi, hanno cambiato. Alla settima. Ma però ragazzi ancora non ha cambiato Scream 8. Potrebbe essere qualche volta che cambierà. Però ancora no. Vabbè. Riportiamo dove siamo partiti. Ehm... Qua... No. Dobbiamo mettere cinque gelati. Vediamo ogni gelato. Dieci gelati. Ne mancano cinque. Livello uno. Poi si fa potenziare i mini rod. Ah, sì ragazzi. I mini rod li fa potenziare di più. Ragazzi, voglio fare quello a livelli. No, ragazzi. Io, ragazzi, voglio fare quello a livelli. Perché ragazzi, sperando che si può. Voglio arrivare al livello cento. Facciamo questi gelati. Non sono dieci. Ok, credo che sono dieci. Uno ne manca. È livello tre. Ragazzi, mi immagino il livello quarto. Andiamo a riprendere le monetine. Non me le fa prendere. Non so perché. Oh, Boris. Per intornare. Let's Boris. Lo ricordate? Sì, vabbè, ma quanti? Sette ne mancano. Quindi, ogni dieci, credo, cose che costruiamo, si costruisce un'altra fabbrica. Quindi, un altro pezzo di una fabbrica. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. E... Noi ci vediamo in un prossimo video.